L'ordinanza della Santelli, giusto o sbagliata che sia, ha generato una gran confusione, oltre che aver preso alla sprovvista gli stessi esercenti che da stamattina possono aprire le loro attività. Stamane la città di Cosenza si presentava un po' più affollata del solito, con le solite forze dell'ordine a controllare chi era fuori per un giusto motivo o meno, ma di fronte a chi rispondeva che stava andando a prendere un caffè non si sono potuti opporre. La nuova ordinanza della Santelli io la condivido perché se stiamo attenti a non fare e creare i focolari tipo da noi potremmo farlo questo, rispettando le regole, mascherina, guanti, distanza di sicurezza che durerà un bel po'. Io poi onestamente stavo facendo già le consiglie del gelato a domicilio, quindi ero già in moto con l'attività. Dopo due mesi di fermo assoluto vediamo un attimo di fare uno schema anche delle prescrizioni che devono essere messe in campo per poter accogliere la gente. È evidente che la situazione non è facile, noi dobbiamo rispondere sicuramente ad un desiderio di sicurezza da parte dei nostri utenti e nostra principalmente. Facciamo uno schema di quello che può avvenire fuori, però credo che ancora questo serva solo per dare un abbrivio a un'attività che man mano che il caldo comincerà ad incombere, ad arrivare, ci potrà dare più spazio. Una gran confusione come dicevamo, perché tra il DPCM che dice una cosa, l'ordinanza regionale che ne prevede un'altra ancora ed alcuni sindaci che si sono apposti all'approvvedimento della Santelli, in molti hanno preferito restare chiusi. E per tutti questi due mesi di chiusura forzata rappresentano un vero e proprio dramma dal punto di vista economico. Sono in difficoltà in tutti i sensi, ma seri, vediamo di uscirne bene. E' un dramma, non è il bar, tutta la ristorazione, tutta l'oreca in generale, è una fase molto drammatica. Le aziende come la nostra vivono di cassa quotidiana, abbiamo dei collaboratori che ancora non hanno percepito assolutamente nulla, incentivi che non sono mai arrivati, e per noi è un dramma. Quindi abbiamo la necessità in ogni caso di tornare a lavorare, ma chiaramente dobbiamo farlo nella assoluta sicurezza sia nostra che per i nostri clienti e utenti.